Si parla di pedopornografia in questo incontro, abbiamo visto online, quali sono i risultati di questa giornata? Una giornata interessantissima che approfondisce un aspetto importantissimo, che è quello della presa in carico di queste condizioni che si vengono a creare per questi misfatti, perché quello della pedofilia è un misfatto e rispetto a questo questa giornata oggi vuole costruire un dialogo importante, multiprofessionale, che possa non solo consentire la cura, ma possa consentire di mettere a punto un progetto di rete di prevenzione, che per un verso vada a migliorare la condizione di vita dei nostri giovani, dei nostri bambini, in modo tale che non siano vittime o abbiano quelle energie evolutive, educative, per attraversare il pericolo che un abusante costituisce. E peraltro lavorare su quelle che possono essere le condizioni sociali, le condizioni relazionali, nei gruppi di riferimento dell'infanzia, nella società, nell'uso del web, rispetto al quale dovremmo anche dire che la rete nasce, internet nasce, per la libertà, per abbattere alcuni confini del sapere, in cui il sapere veniva circoscritto. E allora forse noi dovremmo ritornare a una educazione dei bambini, cominciando proprio dalla prima infanzia, un'educazione all'uso di internet, che non è solo una preparazione di tipo digitale, tecnica, ma diventa una vera capacità, la promozione di una vera capacità nel bambino di sapere usare internet non cadendo nella trappola che, per esempio, i pedofili rappresentano.